Una cordiale buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code a tratti tra Firenze Scandice e il Bivio con la variante Divalico, code a tratti anche in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello, in A11 sempre per traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pise tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Code anche sul ramo d'allacciamento tra la 1 e la 11 provenendo da Roma in direzione Pisa. Passiamo sulla FIPILI dove a causa della viabilità esterna che non riceve si segnalano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandice in direzione Firenze con code in uscita alla Strassigne e San Miniato provenendo da Firenze. Città di Firenze fino al 30 settembre per lavori di realizzazione della nuova postazione interrata a Dialia in via Ghibellina ha chiuso il tratto da Via delle Casine a Viale della Giovine Italia e per il momento è tutto Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!